Allora, eccoci qui, full flaps, final check list è fatto, final speed è attivato, questo lo deviare, così che metto meno disturbo E key to land, il reverse le gestisce lei o io? Come vuole, allora l'unica cosa le terrò io giù il volantino Sì, il reverse si apre in due tempi, una prima parte della corsa si attendono le quattro luci per il reverse e poi si dà poco reverse Se uno si ostina, fa forza, quando si aprono le conchiglie poi dà una marea di reverse, manda in ombra il rudder e finisce in mezzo a farlo E' un film visto mille volte, autobrick non ce l'abbiamo, quindi si dà una mano, a piede, sì, ma basta dare un po' di reverse e adesso è già fermo 300 Beh, a fare le play box con gente come lei ne ha passeggiato Ahahah Poi assolutamente mi diverto pure io In realtà è un po' più faticoso Senta come si non trova... Impastosissimo L'unica cosa è che non lo richiami, tenga su un pochino il muso, fermo, fermo, se no galleggiamo su tutta la vita Eccolo qua Adesso si siederà piano piano Allora i venti Giù per il reverse Rivito tra i passanti Allora i venti